L'ultima giudicesa, forse la più grande, la più interessante. Su di lei circolano leggende incredibili e bellissime che ci raccontano il desiderio di indipendenza dei sardi. Non diventò giudicesa effettiva, ma sostitui temporaneamente il figlio che essendo ancora minore non poteva diventarlo. Senza timore alcuno proseguì la guerra del padre con la stessa forza e lo stesso carisma. Per la gente lei era Iannora Arbarè, la giudicesa. Combatte vittoriosa senza risparmiarsi mai, anche quando il marito venne imprigionato. Firmò una pace con gli Aragona, ma non durò che un solo istante. Anche lei venne fermata dalla peste. Alla sua morte il giudicato passò al figlio Mariano V. Non durò a lungo al trono, a causa di una morte prematura. A questo punto la linea dinastica dei Basserra si interrompe. Bisognava rivolgersi altrove. A questa parte la linea dinastica dei Basserra si interrompe. A questa parte la linea dinastica dei Basserra si interrompe. Grazie a tutti.